Sono state rinviate a giudizio per assenteismo tutti i dipendenti dell'Urega di Enna e Caltanissetta, o quasi dopo il licenziamento deciso dalla Regione. L'indagine della Guardia di Finanza, iniziata nel giugno di tre anni fa, ha dato il via a dieci misure interdittive, anche se poi il riesame le ha revocate. Per i 13 imputati le accuse avanzate dalla Procura della Repubblica di Caltanissetta sono di truffa aggravata e di falsa attestazione e certificazioni in relazione alle presenze in servizio. Secondo la tesi dell'accusa, infatti, gli imputati si sarebbero allontanati arbitrariamente dall'ufficio dove prestavano servizio, con assenze anche prolungate, per motivi personali e non relativi alla mansione lavorativa. Inoltre, sempre secondo le indagini, per essere sicuri di non essere scoperti, si sarebbero coperti tra loro con tacita complicità.